Ciao a tutti, ben arrivati sul mio canale. Per chi non mi conosce, sono Martina. Questo canale è dedicato a viaggi, vacanze e tante altre curiosità del mondo, per conoscerlo un po' meglio. Oggi però vi sottopongo a un quiz, scopri che viaggiatore sei. Rispondi alle domande scegliendo la lettera corrispondente alla risposta che meglio riflette la tua abitudine di viaggio. Alla fine del test conta quante volte hai selezionato ciascuna lettera e scoprirai quale tipo di viaggiatore sei. È tutto per divertimento, quindi goditi questo quiz e scopri il mondo dietro la mia prossima avventura. Cosa preferisci fare durante una vacanza? A. Esplorare nuove città e culture. B. Rilassarti in una locale tabelneare. C. Avventurarti in escursioni e attività all'aria aperta. D. Goderti la gastronomia locale e la vita notturna. Quanto tempo dedichi alla pianificazione del tuo viaggio? A. Molto tempo. Mi piace pianificare ogni dettaglio. B. Alcune settimane prima, ma con flessibilità. C. Poco tempo. Preferisco improvvisare. D. Nessun tempo. Vado dove il vento mi porta. Quale tipo di alloggio preferisci durante un viaggio? A. Hotel di lusso. B. Resort o alberghi sulla spiaggia. C. Campeggio o rifugio in montagna. D. Bed and breakfast o alloggi locali. Cosa ti attira di più in un viaggio? A. Arte, storia e architettura. B. Sole, mare e spiaggia. C. Natura e avventura. D. Cibo e cucina locale. Come preferisci esplorare una nuova città? A. A piedi, visitando musei e siti culturali. B. In bicicletta o scooter. C. Con escursioni nei dintorni. D. Tramite mezzi pubblici locali. Cosa fai per ricordare i tuoi viaggi? A. Scatto molte foto e tengo un diario di viaggio. B. Acquisto souvenir caratteristici. C. Porto con me un pezzo della natura del luogo. D. Assaggio e raccolgo ricette della cucina locale. Quanto ti interessa l'aspetto culturale dei luoghi che visiti? A. Molto. Sono appassionato di storie e tradizioni. B. Un po'. Mi piace conoscere le abitudini di quali. C. Non è la mia priorità, ma mi interessa. D. Non mi interessa particolarmente. Come preferisci organizzare i tuoi spostamenti durante il viaggio? A. Con un itinerario dettagliato. B. Con un mix di attività e relax. C. Lasciando spazio all'improvvisazione. D. Seguendo le raccomandazioni locali del momento. Ed ora passiamo ai risultati. Avete contato? Vi do 10 secondi. Risultati. Maggioranza di A. Esploratore culturale. Se hai scelto principalmente la A, sei un esploratore appassionato di cultura e storia. Ami immergerti nei musei, visitare luoghi storici e apprezzare l'arte del luogo. Maggioranza di B. Esploratore da spiaggia. Se hai scelto principalmente B, sei un esploratore che ama rilassarsi in località balneari. Il suono delle onde e la sabbia sotto i piedi sono la tua idea di vacanza perfetta. Maggioranza di C. Esploratore avventuroso. Se hai scelto principalmente C, sei un esploratore avventuroso che ama la natura. Escursioni, attività all'aperto e passeggiate mozzafiato sono la tua passione. Maggioranza di D. Esploratore enogastronomico. Se hai scelto principalmente D, sei un esploratore che apprezza la cucina locale. I tuoi viaggi sono un'avventura culinaria alla ricerca di sapori unici. Sperando che questo quiz ti abbia divertito, ti invito a visionare gli altri miei filmati, ma soprattutto ad iscriverti al mio canale per non perderti nulla e sostenermi. A presto e buon divertimento, Martina!